I cristiani non devono avere paura di proseguire verso la piena unità e di inoltrarsi su percorsi nuovi per superare differenze e ostacoli ancora esistenti. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Vaticano una delegazione ecumenica della Chiesa Evangelica in Germania, accompagnata dal cardinale Reinhard Marx, presidente della conferenza episcopale tedesca. Ricordando la commemorazione comune del 500esimo anniversario della Riforma, il Papa ha sottolineato che ciò che animava e inquietava i riformatori era, in fondo, indicare la strada verso Cristo e riproporre agli uomini la misericordia senza limiti di Dio. Ed è quello che deve starci a cuore anche oggi, ha aggiunto il Pontefice, dopo aver nuovamente intrapreso una strada comune. È tragico che la chiamata al rinnovamento dei riformatori abbia portato a divisione tra i cristiani e quindi a lotte e violenze gli uni contro gli altri, fratelli contro fratelli, che si sono sentiti avversari e concorrenti. Ma oggi, grazie alla comunione spirituale rinsaldata da decenni di cammino ecumenico, deploriamo insieme il fallimento di entrambi a riguardo dell'unità e apprezziamo i doni spirituali e teologici che dalla riforma abbiamo ricevuto. A Lund, ha ricordato Francesco, ho ringraziato il Signore per questo e ho chiesto perdono per il passato. Per l'avvenire desidero confermare la nostra chiamata senza ritorno a testimoniare insieme il Vangelo e a proseguire nel cammino verso la piena unità. Facendolo insieme nasce anche il desiderio di inoltrarsi su percorsi nuovi. Sempre di più impariamo a chiederci questa iniziativa, possiamo condividerla con i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo? Possiamo fare insieme un altro tratto di strada? Al termine, ricordando che le differenze che tuttora sussistono rimangono sfide sul percorso verso la visibile unità, il Papa ha invitato a pregare insieme il Padre Nostro. Grazie a tutti.